L'odore arrivava sempre prima di lui. Era un incrocio tra il tabacco del Toscano, sempre presente fra le sue labbra, e un dopobarba da altri tempi. Quello era il segnale che dovevamo andare a posto e prepararci al saluto. Piccolo, tozzo, quasi senza collo, il professore saliva in cattedra sulla sedia troppo alta che costringeva i suoi piedi a nuotare a mezz'aria, in perenne movimento, per tutta la lezione. Eravamo venti in classe, venti carogne pronte alla rissa, alla risata, alla presa in giro, e poco disposti a imparare. Ma tra noi e l'educazione c'era l'onnipresente bacchetta nera del professore, a ricordarci che l'attenzione in quella parte della giornata non era un'opzione discutibile. E il professore aveva una missione, che andava ben oltre la grammatica e la sintassi, quella di insegnare a noi, mine vaganti, il piacere della poesia. Voi dovete capire cosa il poeta vuole comunicare leggendo oltre le parole, entrando dentro i personaggi, osservando l'ambiente dove la scena si svolge. Questo ci diceva spesso e nel mentre menava fendenti all'aria con la sua bacchetta per dare ritmo alle parole e non lasciarci fuggire verso le nostre fantasie. A noi, dei poeti, detto sinceramente, non ce ne importava nulla. E con il senno di poi ammetto che questa operazione della poesia aveva un che di impossibile. Fino a quando, in una tiepida giornata primaverile, il professore aprì un grosso volume e fissò con lo sguardo minaccioso la classe. Mise mano alla bacchetta e iniziò a batterla leggermente sul piano della cattedra, scandagliando i nostri occhi alla ricerca della sua vittima. Non volava una mosca. Poi si rivolse a me e disse, Croci, viene la cattedra a leggere. Mi avvicinai come un agnello sacrificale e vidi la pagina aperta su una breve poesia, l'infinito. Leggi! Sarà stato il momento, i compagni che mi guardavano pronti a condividere il supplizio, la bacchetta nelle mani del professore, sta di fatto che lessi la poesia come il paternoster che mi dava il prete alla fine della confessione. Il professore mi fissava con uno sguardo, mistro, tra la pena e la rabbia. Ma tu hai capito cosa vuole dirti il poeta? No, certo che non l'hai capito, testa di rapa che non sei altro. Il poeta ci vuole trasmettere uno stato di serenità che viene dalla contemplazione dello spazio che lo circonda, ci spiega cosa lui percepisce come indefinito e vago, perché gioca sul confronto tra limite e illimitato. E per far capire ai tuoi compagni tutto questo, devi leggere col tono che merita, con le pause, i silenzi che il poeta ha deciso. E così dicendo, segnava il testo con linee oblique a matita per indicare dove sospendere la lettura, dove insistere sulle parole, dove fermarsi. Capito Croci? Entra nel personaggio, usa la tua fantasia, misura il tono, inserisci le pause e i silenzi e regala questa poesia ai tuoi compagni. Io ve lo giuro, mi impegnai come poche volte. Indossai i vestiti del poeta e diedi tutto me stesso, come aveva chiesto il professore. Terminai la lettura e passato qualche secondo di silenzio, la classe, incluso il professore, scoppiò in un applauso fragoroso. Bravo Croci, hai visto? Hai fatto un passo indietro e hai dato modo al poeta di parlare agli altri tramite te. Bravo, ogni tanto mi stupisci. Andai a posto e i miei compagni, invece di prendermi in giro come mi sarei aspettato, mi guardavano come un eroe sopravvissuto a un'impresa epica, con occhi pieni di rispetto. Ma le poesie non erano il nostro incubo peggiore. La fine dell'anno scolastico si avvicinava e dovevamo sostenere gli esami. Nei corridoi si parlava di un commissario, peggio di una iena. Arrivò il mio giorno ed ero terrorizzato. Mi misi seduto al tavolo d'esame. Il volto di questo commissario era terribile, pelato, con due volte sopracciglia unite e due baffoni che lo facevano somigliare all'orco delle favole più paurose. L'esame non stava andando, per usare un neofemismo. Se non ricordavo qualcosa, e questo avveniva nella maggioranza dei casi, quel brutto ceffo non cambiava domanda, anzi insisteva, come se provasse piacere a mettermi in difficoltà. Guardai disperato il professore che mi sorrise solidale e disse, commissario mi consenta una domanda al ragazzo, lo vedo in difficoltà ma so che ha studiato, è solo emozione. Al caffè parlavamo del leopardi e di quanto lo affascina. Possiamo chiedere al ragazzo cosa sa e qual è ad esempio la poesia che lo ha colpito di più? Certo, disse il commissario con un sorriso beffardo. Ad esempio, ci illumini sull'infinito, lo puoi innanzitutto recitare? Al professore brillavano gli occhi. La trappola era scattata. Ora stava a me. Mi alzai dalla sedia e recitai la poesia come meglio non avrei potuto fare. Il professore gongolava. Il commissario mi guardò, si alzò e venne a stringermi la mano. Croci, faccia conto che gliela stia stringendo leopardi stesso. Complimenti, può andare. E me lo disse con gli occhi lucidi. E così passai l'esame, grazie a leopardi e al professore. E poi fu la volta del liceo e dell'università nella capitale. Lettere moderne, chi l'avrebbe mai detto? Del professore persi le tracce. Poi una sera d'estate al paese lo incontrai. Era seduto su un alto sgabello alla gelateria in piazza e nonostante gli anni passati mi riconobbe subito. Croci, qual buon vento! E come va con l'infinito? E ruppe in una grassa risata da fumatore di Toscano con i piedi che annaspavano nel vuoto.